Io sono uno che mantiene, ubbidisce molto al codice di diritto canonico. Ma buono, ma li vuole? Ecco i vostri gombidi. Ho dato facoltà, ho dato facoltà a tutte le suore di clausura di sette conventi di Napoli che stanno qui a uscire. Se chi si animano non spariscono entro mezzanotte e rimano, li faccio accattare dal controllo animali. Eccoli, ecco, queste sono tutte di clausura. Oh, 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 oh. Ehi, ehi, che sta succedendo? Meglio che chiamo la polizia. Oh, è sempre occupato quando chiamo. Guarda, ma guarda, ma guarda, ma sorelle dopo. E questi sono i clausuri, figuriamoci quelli che non clausuri. Che cosa sono? Allora, allora, ehi, ehi, e chi ne so mangi in una domanda? Tete, sorelle, sorelle. Ehi, 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 ehi